Un festival cinematografico sperimentale, il primo nel suo genere, in cui il tema che attraversa i film è la realtà che sono costretti a vivere ogni giorno i componenti della giuria, persone senza fissa dimora. Primo binario Film Lab, questo il titolo dell'iniziativa scandita in sei proiezioni nella sala Help Center della stazione ferroviaria di Grosseto, una scelta non casuale. Uno perché vogliamo andare a sottolineare il servizio di accoglienza, di ascolto, di indirizzo che facciamo nei confronti di persone che giungono nel nostro territorio e l'altro è perché la stazione di per sé è un luogo di ritrovo di soggetti senza fissa dimora. Quindi un'iniziativa che va a valorizzare anche quelle che sono le risorse che il Coeso ma anche altri istituti mettono a disposizione sul nostro territorio. Il festival è promosso dal Coeso con la collaborazione di Simurg Ricerche dell'associazione Kansas City. L'appuntamento è ogni martedì alle 18, tutte le proiezioni sono aperte al pubblico e gratuite. È questo, del resto, uno dei motivi per cui è stato pensato il festival. Uno è quello di sensibilizzare un po' la cittadinanza su un tema, dramma delle persone che vivono in strada perché è un fenomeno che molto spesso le persone non conoscono. La grave marginalità adulta e il fenomeno del senza tetto infatti sono una realtà molto presente anche a Grosseto. Mediamente su Grosseto 70-80 persone durante il corso dell'anno le possiamo classificare come persone senza dimora. E chi sono queste persone? Molti stranieri, anche se la percentuale dell'età ne sta aumentando e soprattutto si sta abbassando un po' l'età. Sono sempre più giovani, si ritrovano a fare questa esperienza. Ci si augura sempre momentane, anche se in realtà poi spesso si cronicizza, insomma poi diventa difficile anche nei percorsi di reinserimento sociale avere dei successi di rendere le persone autonome nel loro percorso di vita. Ecco allora che lo sportello dell'Help Center alla stazione, gestito dal Coeso, diventa un punto di riferimento per queste persone in gravi difficoltà. Diciamo che è un servizio sociale quindi di accoglienza, di ascolto, di presa in carico delle persone, di erogazione di servizi, ma è anche un luogo che noi vogliamo aperto e non sia ghettizzante, no, che quindi sia rivolto anche alla cittadinanza con attività, laboratori e quant'altro. Allora la strada del Festival Cinematografico diventa un invito alla condivisione per la cittadinanza. Dopo la proiezione di Bassifondi nella prima serata, seguiranno La Bocca del Lupo, Senza Tetto, Nel Legge, Roma Termini e Storie del Dormiveglia. Lunedì 18 dicembre, poi la serata finale nella Cinema Stella, in cui la giuria, composta da persone senza dimora, sceglierà il film vincitore. Non sarà Il Leone di Venezia, ma in questo caso forse la posta in palio è ancora più alta. Non sarà Il Leone di Venezia, ma in questo caso forse la posta in palio è ancora più alta.